Lunedì 16 marzo 2020, 76esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La Chiesa ricorda Sant'Eriberto Vescovo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Eriberto. Il nome ha origine germanica e significa splendore dell'esercito. Accadde oggi. Il 16 marzo del 1978, in un agguato a Roma, le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo cinque uomini della scorta. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 16 marzo ricordiamo il poeta sceneggiatore Tonino Guerra e il regista Bernardo Bertolucci. La citazione del giorno. L'amore e l'attesa di una gioia che quando arriva annoia Leo Longanesi. Dice il saggio. Le donne leggere sono quelle che pesano di più sul portafoglio di un uomo. Il bel paese. Appena fuori dalle mura di Todi è possibile visitare il maestoso Tempio di Santa Maria della Consolazione che costituisce uno degli edifici simbolo dell'architettura rinascimentale. Un autentico gioiello, meta di visitatori da tutto il mondo, la cui costruzione iniziò nel 1508 e si concluse solo un secolo più tardi. Il progetto architettonico è stato attribuito, pur con qualche riserva, al Bramante. Il Tempio, a pianta centrale e croce greca, presenta all'interno dodici statue in gesso, raffiguranti i dodici apostoli che riposano in altrettante nicchie, mentre sopra l'altare maggiore c'è l'antica immagine della Madonna con bambino e lo sposalizio di Santa Caterina d'Alessandria. L'immagine, ritenuta miracolosa, si trovava originariamente entro le mura di una piccola cappella andata in rovina nel corso dei secoli. Un muratore la trovò coperta di polvere e ragnatele, e dopo essersi asciugato il sudore dalla fronte con lo stesso fazzoletto con cui aveva pulito l'affresco, fu miracolosamente guarito da una grave malattia a un occhio.